la scorsa lezione l'abbiamo conclusa lasciando un esercizio il primo esercizio era su variazione compensativa rispetto a una funzione quasi lineare giusto se mi ricordate la funzione perché da quello che ho scoperto stamattina ne ho date due diverse se mi ricordate la funzione lo risolviamo l'utilità è 4x1 allo mezzo più 2 perché è una quasi lineare mi ricorda i prezzi prezzo è uguale 1 prezzo 2 è uguale ad 1 il secondo è un numerario giusto il reddito è il reddito è 100 e la tassa è al 100% e poi imporremo una tassa del 100% questo è l'esercizio che ho lasciato a voi bene allora la prima domanda immagino fosse troviamo la scelta ottima punto di partenza senza tassa ok lei con la sala test new york come la risolta perfetto quasi lineare la posso trattare come qualsiasi altra funzione che conosco la cosa più semplice che mi viene in mente è rapporto dei prezzi uguale al rapporto delle due utilità marginali che è il mio saggio marginale di istituzione vincolo di bilancio che mi assicura di poter effettivamente effettuare quella scelta e di essere efficiente di essere in un punto in cui sto utilizzando tutto il mio reddito nel nostro caso che cosa mi viene fuori mi mi dica mi dica perfetto due radice di x uguale al rapporto dei prezzi che uno perfetto e poi c'è il vincolo di bilancio quindi il suo x1 ok perfetto quello è il nostro vincolo di bilancio che ci teniamo da parte da qui lei già può scegliere x1 perché x1 uguale a 4 quindi x2 semplicemente tutto ciò che mi resta dopo che ho comprato il bene 1 quindi 96 perfetto poi l'ho messa nella mia funzione di utilità la mia scelta c'è un 4 davanti qui e ottengo 96 più 8 104 ecco abbiamo trovato la mia utilità semplice semplice arriva lo stato e decide di imporre una tassa del 100% il prezzo del mio bene brava ha fatto gli esercizi lei mi sta ridando un po di fiducia rispetto all'ora precedente impongo una tassa e il prezzo diventa lei con 1 2 3 4 5 6 7 pizzo occhiali lì ma cos'è lei non ho capito non l'ha fatto però a questa domanda può rispondere lo stesso impongo una tassa del 100% il prezzo è uguale a 1 quanto diventa il prezzo 2 2 non l'ha fatto ma può rispondere lo stesso e dato che il prezzo diventa 2 lei in quarta fila con la felpa con il capuccio si lei mi aiuta a risolvere adesso per la scelta ottima non l'ha fatto però ci può provare perché la sua collega le ha detto come si fa con il prezzo uguale a 1 cosa dovrà fare per il prezzo uguale a 2 la stessa cosa ma cambio il prezzo ok quindi avrò sempre questo ma il mio prezzo viene cambiato ok e quindi la mia scelta ottima in questo caso quant'è lo dica alta vostro 1 e quanto scelgo nel bene 2 m meno quanto stendo 100 meno 2 per 1 giusto e quant'è la mia utilità 4 come 2 ah 102 ah ok 4 per 1 sempre 4 fa più 98 come vedete mi ritrovo su una funzione di utilità più bassa ok terza domanda cancello un po' di cose la terza domanda ci chiede bene di quanto devo compensare il reddito del consumatore che sto analizzando per far sì che questo aumento di prezzo non intacchi la sua soddisfazione quindi devo calcolare la variazione compensativa rispetto alla tassazione quindi lei con come la individuo che sta scrivendo in 1 2 3 quarta fila si lei come la individuo la variazione compensativa necessaria a porre il consumatore allo stesso livello di soddisfazione nel punto di partenza ma dopo la tassa non ho capito modifico il reddito eh sì come lo modifico lei accanto allora se giovi non c'era poco male perché avrebbe dovuto leggere il libro comunque 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 la variazione compensativa cos'è diciamo la variazione compensativa la variazione compensativa la consumatore perché dopo il capire il rispetto il rispetto perfetto quindi gli devo dare del reddito ok quindi noi l'abbiamo ok 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 quindi il libro l'ha letto questo questo è evidente ora quello che sto dicendo è cerchiamo di ragionare su che cosa devo fare ti devo dare del reddito tale per cui la tua utilità non vale ok ma con la nuova scelta io la nuova scelta la conosco no è 1 quello che cambia quindi in queste funzioni perché vi ho dato l'esercizio sui quasi lineari effetto reddito effetto sostituzione no perché vedo che qua il reddito non influisce sul bene quasi lineare influisce solo sulla porzione di utilità che è lineare sul numerario il reddito ok quindi la variazione di reddito io la trovo all'interno del secondo bene cioè la mia domanda c'è m qui m meno x1 per p1 qui c'è l'ho questo è x2 giusto? quello che accade qui dentro non varia quanto è il domando? 1 la mia utilità per porla uguale a questo devo considerare la scelta di prima quanto glielo dare di reddito per farti scegliere questo nuovo paniere rispetto al bene 1 cioè quello che scegli con il nuovo prezzo e darti la stessa utilità di partenza ok? questo qua quindi è quello di prima è 2 perché è prezzo per quantità quindi mi rimane questo 4 meno m meno 2 uguale 104 così trovo il reddito di cui ho bisogno per arrivare a quel paniere appunto ho messo la parentesi questa è l'utilità scusate ci siamo? a questo devo arrivare io quindi quanto è uguale m m è uguale a 102 ti siamo? che cosa vuol dire? c'hai 100? io ti devo dare 2 euro in più di variazione compensativa per riportarti a quella utilità quindi il reddito rimane 104 perché? il reddito non è 104 il reddito è 100 quel 104 è l'utilità che lei ricava da quel paniere ok? ci siamo? chi è che ha detto noi? io il reddito nuovo lo sto facendo facendo il reddito potenziale al reddito sarebbe la rasta che non si ha nuova e quindi facendo così è il reddito nuovo e perché deve fare così? che cosa sta sbagliando? lei sta sbagliando rispetto alla nostra definizione che abbiamo dato della soddisfazione che un consumatore riottiene se io gli restituisco il gettito oppure se gli restituisco l'utilità che ha perso faccia attenzione che il suo gettito quant'è? uno per uno ok? quindi lei non sta tenendo conto di tutti e due gli effetti in particolare gli sta ridando del reddito ma non tiene conto che lui ha cambiato perché i prezzi relativi sono cambiati ok? è esattamente la differenza che abbiamo detto nel nostro esempio della scorsa lezione se tu restituisci il gettito si gli stai dando un po' più di soddisfazione ma non arriverai mai alla soddisfazione di partenza perché lui non solo perde il potere d'acquisto reale ma perde anche perché sta sostituendo in modo diverso due sarebbe il reddito aggiuntivo che gli devo dare per riportarlo alla stessa soddisfazione che ha prima dell'imposizione della tassa non ho capito no sarebbe m primo meno m il delta m è 2 e m primo è 102 devo arrivare a un reddito di 102 è chiaro ragazzi? ho due domande silenzio mi dica perché è lineare lo può fare perché è una quasi lineare è certo è quello che l'ho detto io perché è una quasi lineare c'era un'altra domanda? sì mi riesco a sapere dalla formula che è uscita m meno 2 m è il reddito? io che cosa consumo del bene X2? il reddito meno tutto quello che spendo per l'altro bene per l'altro bene spendo due perché ne compro uno compro un'unità e la pago due euro m meno questi due euro è quanto mi resta in tasca è il bene due ok? ci siamo? chiaro ragazzi? ok questo è il primo esercizio che vi ho dato cosa che ho fatto quando abbiamo risolto l'esercizio per la copta ho eguagliato l'utilità che derivo prima dell'imposizione della tassa e quello è un numero che ho calcolato 104 l'ho eguagliato all'utilità che ricavo dal consumare i due beni ma questa utilità l'ho espressa sia in termini del reddito che è la mia incognita sia in termini dei nuovi prezzi ok? quindi ho fatto esattamente la stessa cosa eguaglio le due utilità però una è che vi lascio l'incognita che mi interessa perché il reddito te lo devo variare no questa formulanza è utilizzabile solo per una quattro miliare no è utilizzabile anche per la copta perché per la copta abbiamo fatto la stessa cosa si ricorda? io ho messo all'interno la funzione copta ah non c'era mi scusi se vede il video per tutte le funzioni faccio così mi scusi mi avevo dimenticato che non c'era ok? siamo d'accordo su questo esercizio ragazzi? si mi dica allora la scelta ottima è quella che lei ha indipendentemente da dove è perché io la metto come espressione generica cioè in funzione di m e di p ok? ora scusate se fate silenzio può essere utile perché la romana non è banale quindi lei mette sempre la scelta ottima all'interno della sua funzione di utilità e chiaramente lo fa rispetto al prezzo nuovo come ha detto ok? dall'altra parte ci mette l'utilità chiamiamola vecchia cioè prima della tassa e risolve per la sua incognita che è il reddito ok? ci siamo ragazzi è chiaro per tutti? sono cose che posso mettere alle sonne allora c'è chiaro per tutti grazie qui ha trovato delta M è la stessa cosa certo va benissimo anche trovare il differenziale certo è fatto forse un passaggio in più sì però va benissimo sento rumore allora il secondo esercizio riguardava l'analisi costi e benefici in un equilibrio di mercato dopo l'imposizione di una tassa quindi abbiamo detto vi ho chiesto una volta che mi ritrovo a poter analizzare un equilibrio di mercato dove sappiamo bene la domanda da dove viene ci siamo detti qualcosa sull'offerta ci siamo detti qualcosa sull'offerta è perché ha quella inclinazione abbiamo comunque definito surplus del consumatore e surplus del produttore siamo in grado di fare analisi costi e benefici dovremmo essere in grado di fare analisi costi e benefici rispetto all'imposizione di una tassa e quindi vi ho detto fatemi questa cortesia spiegatemi cosa succede al benessere complessivo e al benessere del consumatore e al benessere del produttore se da questa situazione arriva un terzo agente economico che chiamiamo governo impone una tassa fissa su questo mercato del valore di T facendo quindi variare il prezzo quindi il prezzo dopo la tassa è il prezzo più un ammortare fisso ok imponi una tassa su questo equilibrio fissa un euro ok e io che cosa vi ho detto fatemi un po' di analisi costi e benefici dandovi una due suggerimenti uno è sul libro due chiudete il libro buttatelo lontano e cercate di farlo da soli partendo da questo secondo suggerimento la tassa è pissa supponiamo che la versi l'imprenditore tutta al nostro agente economico governo cosa succede all'offerta che ho appena disegnato e vi ho detto beh dovrebbe essere chiaro che dato che io devo versare sempre la stessa quantità per ogni unità questa offerta si sposta verso sinistra esattamente nell'ammontare della tassa parallelamente ogni punto io lo posso ritrovare su una curva di offerta più alta spostata parallelamente di quella montare e da qui devo partire da questo suggerimento che vi ho dato su cui credo fossimo tutti d'accordo a fare un po' di analisi costi benefici e quindi l'ho fatta giusto quindi in uno due tre quarta quinta fila con la felpa bianca di uno due tre quattro qui si felpa bianca e lei continua a girarsi però è lei si e beh basta contare le file guarda che faccio per fare un po' di analisi costi benefici non la faccio se mi capita le sonero pure non la faccio accanto lei che dice non c'era però così l'ha letto il capitolo no? perché lei segue sicuramente i miei suggerimenti di leggere il capitolo prima del quindi questa qua come ho detto è nel libro quindi ha letto questa cosa qua analisi di una tassa come si fa? ok come si quando tanto il piaccio per dire l'acquisto di l'acquisto e l'acquisto a questa ricordiamoci ragazzi io non vi sto giudicando adesso quindi se lei non la sa questa cosa fa benissimo non c'è problema perché io non vi giudico adesso io lo farò all'esonero vi suggerisco soltanto di ragionare in merito a se fare l'esonero o meno data la vostra preparazione lei che mi dà tanta soddisfazione con la barba in seconda fila sì ma aiuta ci proviamo ci proviamo allora possiamo sicuramente dire che il barba è calato perfetto perché partiamo a monte faccio analisi di costi benefici che vuol dire prima dopo ok prima quali sono i surplus se vuole metto lettere soltus del consumatore perfetto a e pistar soltus del consumatore tutto l'area arrivo tutta l'area sottostante alla curva di domanda tutta l'area sottostante alla curva di domanda sì sì ce l'ho presente bisogna per forza abbassare tutto e poi rialzare tutta l'area sottostante alla curva di domanda e delimitata dal prezzo di equilibrio è il triangolo che identifica il mio surplus del consumatore va bene così? va meglio come riflesso? meglio bene no meglio sì la nostra soddisfazione è aumentata quindi l'area sottostante alla curva di domanda identificata dal prezzo di equilibrio surplus del consumatore e il surplus del produttore lei in uno due tre quarta fila che sta scrivendo con gli occhiali e i capelli raccolti non lo sa? vuole fare le zone no? vale per lei tutto quello che ho detto prima lei invece che mi sposto così sulla stessa fila sì P e B P e Q no no P e B ah P e B ok ho detto bene l'area delimitata dal prezzo e superiore alla curva di offerta è il mio surplus del produttore la somma dei due mi dà il surplus totale che identifichiamo come il benessere derivante dallo scambio ok parto da lì ottimo poi lei mi dice eh però tu hai imposto la tassa quindi arrivo dove? che succede al consumatore? entrambi perdono surplus mettiamo un'altra letterina che ci può essere utile siamo il punto di intersezione tra la nuova curva di offerta e primo e il prezzo identificato fra domanda e quella curva di offerta PC ok il nuovo surplus del consumatore è ah il primo PC perfetto ah il primo PC questo nuovo triangolino è il surplus del consumatore questa è la parte che vede immediatamente là dietro proprio con la bottiglietta d'acqua quasi in ultima fila mi vede ci siamo? lei ok il produttore dopo la tassa quanto si porta a casa? il surplus di prima me lo dica a parole la prima cosa che mi deve dire per rispondere a questa domanda gliela pongo io direttamente la domanda senza lasciarla implicita è qual è il prezzo che effettivamente ci identifica la quantità di moneta che entra nelle tasche dell'imprenditore questa è la prima cosa che deve dire lui deve individuare un altro prezzo perché lei stava andando in una direzione sbagliata per quello l'ho fermata io il casco di chi è? quel casco là di chi è? è suo? il proprietario del casco mi risponde a questa cosa dove individuo il prezzo che effettivamente identifica quanto denaro entra a parole perché le lettere non c'è lo deve individuare mi deve dire cosa devo fare il prezzo le ho chiesto non le ho chiesto il surplus ricordatevi va bene anche non lo so perché io non vi non vi interro serve per voi questo serve per farvi capire che state indietro e che così l'esonero non lo passate come vi ho detto alla prima lezione no? alla prima lezione io vi ho detto se voi non rispondete alle mie domande in classe l'esonero non lo passate siccome siete grandi adulti e vaccinati e soprattutto maggiorenni utilizzate il vostro tempo in maniera efficiente venite in classe venite in classe se questo vi serve studiate se pensate che abbia un senso studiare se no non lo fate e fate quello che ritenete abbia un senso ok? non vi posso dire quello che ho detto ai vostri colleghi stamattina perché è già tardi ma stamattina ai vostri colleghi ho detto ma che ci venite a fare a quest'ora la mattina qua? dormite riposatevi che state meglio se venite qua fatelo perché abbia un senso no? che c'ha lei sulla maglietta bianca lì? un polivo cos'è? lei con gli occhiati sì sì cos'è quello? un polivo? un drago lei me lo sa individuare il prezzo il prezzo che ottiene il produttore il produttore non paga e quindi il modo per individuare il nuovo surplus del produttore come faccio? devo scendere giù? devo scendere qui per caso? e dire beh lui paga la tassa ma la paga semplicemente girando questa tassa al governo quindi a lui in tasca entra questo entra chiamiamolo PI cioè quello che gli entra effettivamente non è il prezzo che paga il consumatore perché in quel prezzo dentro c'è la tassa e questa differenza qui tra i due prezzi è proprio la tassa ok? se non capisco questa cosa io l'analisi non la farò mai perché non capisco che sia il surplus del produttore che il surplus del consumatore si riducono per effetto di una tassa e adesso lo identifico il nuovo surplus del produttore con quest'area qui e come abbiamo detto quest'area qui è il nuovo surplus del consumatore rimane quel rettangolo che cos'è quel rettangolo? il gettito ok? quello è quello che si porta a casa lo Stato tassa per quantità nuova scambiata perché la quantità nuova scambiata è qui chiamiamola FUTTI ok? gettito surplus surplus il gettito fa parte del benessere complessivo perché noi abbiamo detto lo posso restituire direttamente sia a consumatori che imprenditori la distribuzione per adesso non ci interessa però so che questo rettangolo fa parte del surplus perché il gettito viene restituito non viene bruciato ok? come diceva il vostro collega all'inizio arrivando con la prima risposta alla fine dell'analisi sicuramente il mio benessere sociale e il mio benessere derivante dagli scambi è più basso perché comunque dato il gettito dato in due nuovi surplus lascio sul tavolo una parte di benessere che è arrivo subito da lei questo triangolo qui perdita setta mi dica lei aveva una domanda in persa qui e la tassa come se la prende il governo io parto da un equilibrio di un euro ok? impone la tassa di un euro quell'equilibrio diventa due no? però non ci arrivo perché è cambiata il prezzo domanderò di meno ok? quello che effettivamente entra all'imprenditore non è prezzo più tassa la tassa la deve dare al governo e quindi lei il prezzo vecchio lo ritrova sempre scusi il prezzo che identifica quanto entra all'imprenditore lo trova sempre sulla curva di offerta vecchia è certo questo spostamento non è uno spostamento che fa l'imprenditore in quanto ha cambiato la sua offerta no? è uno spostamento che deriva dall'imposizione della tassa ma la tassa non entra all'imprenditore quantità scambiata dopo la tassa curva di offerta vecchia curva di offerta vecchia non è neanche corretto curva di offerta originale cioè quella dell'imprenditore senza tassa esatto questo che ha ad esempio il caso dell'IVA beh l'IVA non è una tassa fissa però è molto simile l'IVA com'è? l'IVA è una tassa in percentuale ok? quindi lei che cosa fa? in valore assoluto l'IVA è più alta su 10 euro rispetto a un euro perché su un euro paga circa 20 centesimi su 10 euro paga circa 2 euro quindi lo spostamento dell'offerta c'è sempre ma non è parallelo perché più va in alto e più lo spostamento è ampio bravissimo bravissimo un esempio il vostro collega ha detto allora un esempio di rassafista è l'accisa sulla benzina allora l'analisi è indifferente lei può anche dire il versamento della tassa lo fa tutto il consumatore e quindi graficamente posso anche far spostare la domanda ma sempre che va verso il basso ma sempre la stessa cosa succede perché lei trova il prezzo qui che prende ma quello che effettivamente è pagato è qua perché poi il consumatore deve su quel prezzo di equilibrio aggiungere la tassa è dato al governo quindi è la stessa cosa questa è una cosa che in realtà non succede quasi mai normalmente come vengono raccorte le tasse vengono messe sul prezzo di vendita e l'imprenditore o il venditore si occupa di girarle allo Stato per questo facciamo questo tipo di analisi che è più vicina a cosa che osserviamo ma da un punto di vista teorico non cambia nulla per tutti coloro che partecipano a questo mercato partono da un benessere e si ritrovano con un benessere più piccolo se lo sommiamo non è detto che siano scontenti perché io la redistribuzione di questa gettido la posso fare in maniera non uguale posso ridarla tutta al consumatore posso decidere di tassare questo bene e ridarlo tutto al consumatore posso decidere di tassare questo bene e ridare tutto all'imprenditore posso decidere di fare un po' e un po' quindi non è detto che singolarmente i due stiano in una situazione peggiore se presi singolarmente ma se li considero insieme che è quello che mi interessa perché io sto facendo un'analisi del benessere complessivo la situazione è peggiore perché ho lasciato sul campo quel triangolo perdita secca perché ti sto spostando in una situazione che è pareto inefficiente ok vediamo questa pure è una cosa che sapete fare questa pure ci potrebbe mettere sulle zone mi sono dimenticato di dire una cosa essenziale sì sì la quantità è diminuita attenzione mi sono dimenticato di dire una cosa essenziale la cosa essenziale è la seguente abbiamo detto che l'imprenditore si occupa di girare la tassa dal dallo scambio al governo ma chi effettivamente sopporta la tassa non è solo l'imprenditore come identifichiamo chi sopporta la tassa la identifichiamo rispetto alla variazione di prezzo che subiscono nei due casi i due agenti il consumatore prima scambiava a Pistar ora è costretto a scambiare a PC quella differenza è quanto della tassa grava sul consumatore ok quindi questa differenza è quanto paga il consumatore di quella tassa per singola unità perché il prezzo è più alto la differenza fra quanto percepiva prima della tassa e quanto percepisce adesso è quanto grava in termini di variazione di prezzo sulle spalle dell'imprenditore a causa della tassa è quanto paga l'imprenditore rispetto all'imposizione di quella tassa come si dividono come si dividono la tassa sono queste distanze da Pistar a PC e da Pistar a P rispettivamente per il consumatore e per l'imprenditore ok ci siamo perché vi dico questa cosa perché questa è essenziale nel capire perché fra un pochino ci metteremo a disquisire rispetto alla pendenza della curva di domanda vedete che se variano le pendenze relative di offerta e domanda chi paga la tassa in termini di peso sopportato cambia lo vedete questa cosa iniziate a far a immaginare che l'offerta diventi più piatta sempre più piatta l'imprenditore rispetto a questa situazione se ha un'offerta più piatta e quindi se questa offerta inizia a vuotare intorno al punto di equilibrio cambiando sia intercetta che pendenza che fa ne paga di più o di meno di quella tassa via via di meno perché quasi riduce l'intercetta rispetto al prezzo caso limite che qual è il caso limite il caso limite è che io ho un imprenditore ho una serie di imprenditori che presentano questa curva di offerta un'offerta piatta come la interpreto questa offerta a quel prezzo sono disposto a offrirti qualsiasi quantità ok allora se io sono nel punto di equilibrio impongo una tassa che succede esattamente quello che abbiamo visto rispetto al nostro caso si sposta la curva di offerta esattamente della tassa e chi la sopporta questo tassa tutto il consumatore ecco perché iniziamo a capire guardate che non è solo importante il punto dove siamo nella distribuzione ma è importante anche la pendenza relativa di domanda e offerta ok perché queste pendenze relative ci permettono di capire le variazioni di surplus quando abbiamo variazioni di prezzo chi la subisce di più questa variazione di prezzo chi la subisce di meno ok e quindi questo era il recap come dicono gli anglosassoni di quanto fatto nella lezione precedente in termini di esercizi ok bene oggi quindi introduciamo il concetto di domanda di mercato che cosa vuol dire domanda di mercato noi fino adesso e ve l'ho fatto anche rispetto al prezzo massimo io ho detto ragazzi attenzione l'analisi che faccio io presempone che c'è un consumatore uno e uno solo no e quindi mi permetto di fare quell'analisi del prezzo massimo un po' differente dal vostro libro perché ho un consumatore solo ora però quando vado a verso il nostro obiettivo che è costruire l'equilibrio di mercato quello lì perché se vi ricordate io alla prima lezione vi ho detto dobbiamo arrivare lì noi passo dal singolo consumatore al mercato il mercato che cos'è già ricordiamo la ripetizione del primo giorno di mercato un luogo non necessariamente fisico ne ho rica lei dove si incontrano consumatori e produttori dove si incontrano domande e offerta per dar luogo agli scambi di beni e di servizi ok quindi si incontrano i consumatori non ce n'è uno ce ne stanno n di consumatori dipende dalla ricologia di mercato però di norma ce ne stanno un bel po' come faccio ad arrivare dalla domanda del singolo consumatore alla domanda di mercato intanto mi devo ricordare che cos'è una funzione di domanda che cos'è la funzione di domanda lei in prima fila si una funzione di domanda diretta e prima appunto la domandata di quel bene in relazione al prezzo in relazione al suo prezzo sicuramente e possibilmente alle altre variabili monetarie se esistono nel nostro modello e se la sua domanda lo presuppone di 2 ed m questa è la quantità lei consumatore rappresentativo le do una struttura di prezzi c'è un reddito in tasca domanda lei accanto stessa cosa lei accanto stessa cosa tutti in questa stanza fate la stessa cosa dai consumatori razionali se questo è il mio mercato io come ottengo la quantità domandata dall'intero mercato la sua più la sua più la sua più la sua sommo ok sommo quantità domandate dai singoli consumatori quindi la mia domanda di mercato x grande x grande j per il mercato jesimo credo che questa sia la notazione del vostro libro è uguale a che cosa una somma di domande dei consumatori che sono su quel mercato o n consumatori voi siete n uguale a ad occhio così siete 150 ognuno di voi ha una sua bella domanda di mercato per quel bene i prezzi sono uguali per tutti e almeno ognuno possibilmente ha il suo non è che fronteggiate prezzi diversi fronteggiate tutto la stesso mercato quindi tutti la stessa struttura dei prezzi m possibilmente potrebbe anche essere diverse quindi sommo tutte le domande per ogni singolo del bene uno per ogni singolo consumatore i rispetto alla struttura dei prezzi e al suo reddito ok e ottengo che cosa una domanda x grande che quindi sarà funzione di che cosa sempre la stessa struttura dei prezzi e di m grande che mi identifica la somma di tutti i redditi ok questa è la mia domanda di mercato la somma delle singole domande dei consumatori la prima avvertenza ha detto bene la vostra collega io ti definisco la domanda diretta perché noi conosciamo domanda diretta e domanda inversa quando io vado a scrivere una tipica funzione di domanda lineare inversa come la scrivo prezzo variabile dipendente funzione della quantità ma la domanda diretta che ha definita la vostra collega che io ho scritto qua è l'altra definizione di domanda quantità funzione del prezzo ok quindi quando io mi ritrovo di fronte a un esercizio dell'esonero che mi dice la mia P è uguale a meno B per Q ho di fronte una domanda inversa se il mio esercizio mi dice guarda che tu hai 100 consumatori tutti uguali che scelgono tutti allo stesso modo sul mercato devo sommare 100 volte la domanda del singolo consumatore ma attenzione non questa la quantità perché vi dico questa cosa che è banale perché uno degli errori più comuni che si fanno durante gli esoneri passando dalla domanda al consumatore domanda al mercato e di prendere l'inversa e sommare va bene l'ha fatto lei come pure un po' di tempo fa quindi domanda diretta sommo attenzione ok questa è la prima cosa che è importante e poi la seconda cosa che è importante tenere a mente è che nei nostri modelli molto spesso semplifichiamo la realtà e se io ho 170 persone qui non mi vado a sommare 170 domande diverse perché sarebbe difficoltoso lo posso fare ma sarebbe difficoltoso quindi i modelli che mi trovo ad affrontare sono ho 100 consumatori tutti dello stesso tipo quindi devo semplicemente moltiplicare per 100 la mia funzione di domanda diretta ok ci siamo ok questa è la prima cosa che voglio tenere a mente e così definisco la domanda di mercato che succede alla domanda di mercato in termini di dipendenza se i consumatori aumentano cioè se io ho un mercato con 10 consumatori e poi l'improvviso apro le porte e ne entrano altri 10 aumenta la domanda aumenta aumenta la domanda e da un punto di vista della pendenza di questa domanda che succede? ma lei aveva una domanda che ha alzato la matita prima? lei in seconda prima? sì allora cioè prendiamo questa domanda facciamo un esempio pratica prezzo 30 meno Q ok questa è la domanda del singolo consumatore prima domanda calcolate la funzione domanda di mercato se abbiamo 10 consumatori tutti uguali che faccio? Q intanto dico ah mi ha dato la domanda in diretta hai capito ma quella è la domanda inversa è appunto dico hai capito lo posso dire hai capito l'infame mi ha dato la domanda inversa mi vuole mi vuole fare il trabocchetto no io non ci casco io prima trovo la domanda diretta ok ah t'ho fregato eh lo sapevo che tu volevi farmi il trucchetto ma io ti trovo la domanda diretta e poi siccome sono 10 tutti uguali sommo 10 volte questa che vuol dire moltiplicare tutto per 10 no giusto e quindi so che la domanda di 10 persone sarà 300 meno 10p e poi la seconda domanda mi dice guarda un po' tu me la fai sul grafico si te la faccio sul grafico me la fa sul grafico lei no lei con la felpa di cicalo che ha detto ah non puoi sommare come faccio la devo riportare inversa no la riporto inversa e ti dico guarda che 10p uguale a 300 meno q di 10 è la tua domanda inversa per 10 consumatori che succede qua qui uguale a 30 meno un decimo q di 10 la confronto con quella di prima guarda un po' dove è eccola qua guarda un po' sono uguali non sono uguali sta cambiando la pendenza della mia curva di domanda lineare indiretta cambia la pendenza e la pendenza diventa sempre più piatta sempre più piatta mi tengo l'intercetta no? me la tengo l'intercetta è lì perché? fate l'esempio con 100 sempre la stessa cosa succede moltiplio per 100 3000 meno 100p ok? porto p dall'altra parte mi rimane 30 meno un centesimo q di 100 l'intercetta non si muove perché? perché l'intercetta è a quel prezzo io romando zero quantità sono tutti uguali sempre quello romandano sempre zero romandano a quel prezzo sempre zero la somma di zero sono tutti zero giusto? ebbè e quindi che fa la mia domanda di mercato più entrano consumatori inizia a cambiare pendenza ok? cambia pendenza cambia pendenza cambia pendenza se vado a infinito no? come diventa la pendenza di quel di quella domanda di mercato diventa orizzontale quella curva di domanda diventa piatta ok? sempre più patta sempre più patta se io vado a infinito di consumatori vado a zero dipendenza perché è uno su ok? ci siamo? quindi io scopro una cosa che poi se la capisco adesso mi aprirà un mondo davanti all'equilibrio di mercato concorrenziale perché una delle assunzioni che si fanno sul mercato concorrenziale è che c'è un'alta numerosità di consumatori e quindi la mia domanda nel lungo periodo tenderà ad essere piatta ma domanda piatta che vuol dire se io arrivo a questa curva di domanda questo mi serve tutto per introdurre elasticità quindi non me ne sto andando per la tangente non vi preoccupate cioè oddio preoccupatevi se dovete mi avverto che non me ne sto andando per la tangente se io arrivo a per qualche motivo avere così tanti consumatori che la mia domanda di mercato è piatta beh questa che vuol dire il prezzo di equilibrio quale sarà in questo mercato non si scappa sempre pi deve essere l'imprenditore si può sbattere quanto vuole può spostare la sua curva ruffetta può fare la produzione in maniera più efficiente non efficiente sempre pi si porta a casa perché perché il prezzo è dato dal mercato il mercato è così ampio che il prezzo lo fa il mercato stesso e questa è una delle chiavi per capire il mercato concorrenziale ok e questa è una delle chiavi per capire l'importanza dell'elasticità che è il concetto che andiamo a introdurre adesso sì l'altro è lo stesso modo punto di equilibrio distanza da quanto è disposto a vendere tutti i pezzi e quel punto lì però se la curva ruffetta è pianta allora se lei lei sta facendo un caso particolare è un caso inverso rispetto a questo con la curva di ruffetta lei sta dicendo questo ok punto di equilibrio ma qual è? questo surplus qual è? io so quello del consumatore e quello del produttore è? sei esatto come fa a compiere al produttore per produrre una cosa? questa è una bella domanda a cui le risponderò appena facciamo teoria dell'imprenditore cioè teoria dell'impresa mi scuso perché in quel prezzo lei scoprirà c'è tanto dentro e c'è anche quello che chiamiamo la remunerazione dei fattori produttivi quindi anche se sono approfitto zero io produco e quindi anche se in alcuni casi assurdo zero io produco grazie mille bene perché mi interessava stressare questo spostamento della curva di domanda quando entrano più consumatori perché questo mi serve insieme a quello che abbiamo detto rispetto alla distribuzione di chi subisce la tassa data l'inclinazione della domanda e dell'offerta mi serve a introdurre il concetto di elasticità e l'elasticità è la miglior misura che noi abbiamo per identificare il ruolo della pendenza della curva di domanda e della curva di offerta allora noi l'elasticità la possiamo definire rispetto alla curva di domanda rispetto alla curva di offerta la possiamo definire rispetto in qualsiasi relazione economica che mette qualsiasi funzione economica che mette in relazione una quantità con un valore monetario che sia esso un prezzo o un reddito ok e sia che sia una domanda e sia che sia un'offerta non ci interessa tanto adesso fare la definizione su tutte le possibili elasticità ma ci interessa per prima cosa introdurre l'elasticità della funzione di domanda rispetto al prezzo e quello che in particolare mi interessa introdurre è essere in grado con voi di rispondere la domanda seguente la domanda è quanto varia la quantità domandata in un mercato in termini percentuali data una variazione sempre in termini percentuali del prezzo ok io voglio essere in grado di avere una risposta a questa domanda voglio sapere il prezzo varia dell'1% quanto varia la quantità domandata sempre in percentuale ok questo voglio essere in grado di rispondere quindi se io ho una domanda lineare e per qualche motivo so di trovarmi su questo punto della domanda che è Q star e P star mi sto chiedendo il tuo prezzo varia dell'1% mi dici cosa succede alla tua quantità ok quanto varia la quantità domandata in percentuale data una variazione dei prezzi sempre in percentuale ora traduciamo in formula questo che abbiamo detto a parole variazione percentuale della quantità come si calcola una percentuale come si calcola lo sapete variazione su valore assoluto valore di partenza ok delta Q su Q variazione percentuale della quantità è delta Q su Q se il mio bene si sposta di tre unità e passo da 100 a 103 la variazione è del 3% perché è 3 su 100 la differenza tra arrivo e partenza su partenza ok quindi questa è la variazione percentuale della quantità e io la voglio conoscere quando ho una variazione percentuale del prezzo allo stesso modo delta P su P ok questa è la misura che mi interessa che io chiamo elasticità rispetto al prezzo la sto calcolando sulla curva di domanda elasticità della domanda rispetto al prezzo ok elasticità della domanda rispetto al prezzo allora guardiamola un po' meglio scriviamola in una maniera che ci permette di analizzare le caratteristiche di questa elasticità questo lo scrivo come il suo reciproco portandolo sopra la frazione e quindi allo stesso modo questa è la mia elasticità derivata della quantità rispetto ad una variazione del prezzo moltiplicata per il rapporto fra prezzo e quantità ok bene posso partire dal segno di questa elasticità e poi dal dominio di questa elasticità per dare un po' di informazioni aggiuntive rispetto a questa misura il segno com'è il segno di questa misura non ho capito mi dica negativo è sempre negativo per forza di cose mi dica dipende se il prezzo varia il positivo no è sempre negativa perché perché è sempre negativa e perché le ho detto no così con cattivelia quasi perché da un punto di vista matematico questa è la derivata della quantità rispetto al prezzo di una curva di domanda lineare inclinata negativamente ok o di una qualsiasi curva inclinata negativamente quindi questa è sempre negativa questo derivato da qua è sempre negativa e questo rapporto qua è sempre positivo perché prezzi negativi non esistono quantità negative non esistono questo è sempre positivo ok quindi la sua elasticità è sempre negativa se lei mi avesse detto dipende dal bene allora io sarei stato d'accordo con lei perché lei potrebbe dirmi ma io conosco dei beni per cui l'inclinazione della domanda è positiva sono pochi sono rari abbiamo visto che per trovarli devo andare a scavare però ci sono in teoria quel caso allora non è negativa però diciamo nei beni normali che sono la stragrande maggioranza dei beni che noi andiamo analizzare sempre così e quello che lei ha detto ci dovrebbe proprio aiutare a capire perché è negativa se il prezzo aumenta la quantità scende se il prezzo diminuisce la quantità sale il segno non lo identifichiamo per la direzione no cioè vanno in direzione opposta e per quella è negativa questa è la prima cosa parliamo di questa curva di domanda lineare ok portiamola fino a giù e guardiamoci questa curva di domanda lineare rispetto all'elasticità ok altra informazione che possiamo dedurre da questa formula se la mia funzione è domanda lineare l'elasticità è costante lungo la curva di domanda no cos'è costante la pendenza è costante questa qui è sempre la pendenza della mia curva di domanda diretta non si scappa giusto è sempre quel valore lì sopra in qualsiasi punto dove sono cioè il coefficiente angolare della mia funzione di domanda direi ma il rapporto fra prezzo e quantità varia a seconda di dove sono per vedere come varia la cosa migliore da fare è cosa vedere dei due punti estremi quindi prendo questo delta q su delta p sempre lo stesso è p quant'è un numero 10 10 risposta esatta se avessero 20 risposta esatta lo stesso è un numero positivo a piacere q quant'è 0 là c'è una risposta esatta unica sempre 0 deve essere quindi ho un numero positivo a piacere diviso 0 il numero su 0 quanto fa infinito quindi in quel punto l'elasticità in valore assoluto è infinito perché poi c'è un meno davanti perché questa pendenza è negativa però in valore assoluto se la considero in valore assoluto è infinito perché la prendo in valore assoluto ancora una volta io so che la direzione è opposta sto rispondendo quanto varia la quantità domandata al variare del prezzo ci dico la quantità in valore assoluto perché tanto lo so che va in direzione opposta davanti a un bene normale per questo me la guardo in valore assoluto quindi un punto lì l'abbiamo trovato la mia pendenza sempre quella è il mio prezzo quant'è? 0 la mia quantità quant'è? 10 a lei quindi se questo è 10 e questo è 10 domanda sempre per lei la pendenza di questa curva quant'è? sono entrambi 10 sì sono entrambi 10 è vero sono piccole soddisfazioni per me non creda per me sono piccole soddisfazioni 1 in valore assoluto ok benissimo e quindi questo rapporto 0 sul numero fa 0 quindi la mia elasticità in valore assoluto anche presa qui è uguale a 0 se passo se passo da un punto 0 in valore assoluto a un punto infinito lì in mezzo ci deve stare tutto lo scibile fra 0 e infinito no? ci deve stare 0,5 ci deve stare 1 ci deve stare 1,5 ci deve stare 10 100 1000 in infinito ok qual'è il punto che mi interessa? da un punto di vista economico a me interessa dividere due possibili mondi quando la quantità reagisce in maniera più che proporzionale e quando la quantità reagisce in maniera meno che proporzionale che cosa vuol dire? quando la quantità scusate quando il prezzo aumenta dell'1% e la quantità reagisce in maniera meno che proporzionale io avrò un valore dell'elasticità che in valore assoluto deve essere minore di 1 perché il prezzo sale dell'1% e la quantità diminuisce sì ma non dell'1% di un po' di meno ok? quando io ho una quantità che reagisce in maniera più che proporzionale la mia elasticità in valore assoluto deve essere maggiore di 1 perché il prezzo aumenta dell'1% e la quantità diminuisce per esempio del 2% due volte tanto e quindi ho una elasticità pari in valore assoluto a 2 ok? questa è importantissima questa distinzione perché mi permette di capire che cosa succede alla spesa totale del mio consumatore a seconda del punto in cui si trova ok? quindi la prima cosa che noi dobbiamo identificare è quel punto in cui l'elasticità è uguale in valore assoluto ad 1 poi so che cosa succede a sinistra so che cosa succede a destra a sinistra tutti i punti in cui la mia elasticità è maggiore di 1 tutti i punti in cui la mia risposta in termini di quantità domandata è più che proporzionale rispetto alla variazione percentuale del prezzo tutti i punti sottostanti al punto che ho identificato hanno elasticità minore di 1 e quindi la mia risposta in termini di quantità domandata per una variazione percentuale del prezzo è meno che proporzionale ok quindi questo è quello che desumiamo semplicemente analizzando la mia funzione di utilità ci siamo primo esercizio per casa lo lascio adesso abbiamo ancora un pochino di tempo vero? 10 minuti primo esercizio per casa a meno b per q ok questa è la mia funzione di domanda prezzo uguale ad a meno b per q prima cosa da fare individuare il punto dove l'elasticità è uguale in valore assoluto ad 1 individuate il punto dove l'elasticità in valore assoluto è uguale ad 1 per una generica funzione lineare io ho messo a meno b q sulla domanda inversa primo suggerimento c'è sul libro ottimo suggerimento mette la notazione rispetto alla domanda diretta non cambia nulla però il secondo suggerimento è più importante si fa come l'altro esercizio si prende il libro lo si chiude lo si butta lontano anche con un certo astio ok e si cerca di risolvere utilizzando il secondo suggerimento che vi do che è semplicemente cercare di individuare il punto usando questa e ponendola uguale a 1 in valore assoluto non devo fare nient'altro uso questa e la pongo uguale a 1 in valore assoluto ci metto dentro le espressioni e vedete che trovate il punto in cui l'elasticità è uguale in valore assoluto a 1 questa è la prima cosa primo punto dell'esercizio per il secondo punto dell'esercizio vi devo spiegare una cosetta e poi vi do il secondo punto dell'esercizio l'interpretazione di questa elasticità rispetto alla spesa totale quando io so il punto di equilibrio questo so anche quant'è la spesa totale del mio consumatore ok perché lui ha questa quantità a questo prezzo quanto spende il prezzo per quantità ora io dico spesa totale perché ancora non ho parlato per niente dell'imprenditore ma ci vuole poco a capire perché sul testo troviamo ricavo totale perché nel nostro modello la spesa totale corrisponde a quanto incassa l'imprenditore perché questo punto è dato da domanda e offerta che si incontrano non ci sono tasse non c'è nulla per adesso e quindi il ricavo totale è sempre prezzo per quantità ok come varia la spesa totale quindi il ricavo totale quando varia il prezzo beh graficamente io lo vedo bene che cosa accade c'è uno spostamento no perché sale il prezzo si abbassa la quantità ok la mia spesa totale come varia io consumo di meno in termini di quantità questo pezzo qui non c'è più prima io la differenza fra Qstar e Q' la consumavo al prezzo Pstar giusto? e quindi nella mia spesa totale c'era quel rettangolo rosso adesso non c'è più però c'è un altro rettangolo che prima non avevo che è questo prima io la quantità fra 0 e Q' la consumavo e quindi la mia spesa totale ce l'avevo su questa quantità ma a un prezzo Pstar non al prezzo più alto che ho adesso più prima ok quindi la mia spesa diminuisce perché la mia quantità diminuisce ma aumenta perché il prezzo aumenta ok e quindi la mia spesa totale data da prezzo per quantità quando il prezzo aumenta so che la quantità diminuisce la mia spesa totale che segno avrà aumenta o diminuisce ma non lo so se non so come si muovono i due se non so chi è più grande non posso rispondere e qua entra l'elasticità perché l'elasticità me lo dice che è più grande se è più che proporzionale se è meno che proporzionale o se è esattamente uno ad uno ok qui è importante l'elasticità quindi ora che vi ho spiegato questa cosa voi potete rispondere alla seconda domanda dell'esercizio che vi lascio per mercoledì perché domani c'è l'esercizio la seconda domanda è qual è la relazione fra la variazione del ricavo e la variazione del prezzo su una funzione di domanda lineare qual è la relazione fra variazione del ricavo e variazione del prezzo su una funzione iniziare con una funzione lineare poi vedete che questa vale per tutte le funzioni una funzione lineare come variano i ricavi al variare del prezzo quindi vi sto chiedendo come varia la spesa totale al variare del prezzo perché quello è il ricavo ok suggerimento c'è sul libro secondo suggerimento secondo suggerimento prendete il libro e buttatelo lontano sempre con astio sempre non ho finito ragazzi dove andate se non sentite il secondo suggerimento che fate quindi dopo aver buttato il libro con astio magari dall'altra parte ragionate in questi termini ragionate nei termini che è la variazione di spesa totale e che equivale alla variazione del ricavo ha due componenti la componente che deriva da questa variazione dalla variazione della quantità e la componente che deriva da questa variazione la variazione del prezzo cercate di scomporre la variazione totale in queste due variazioni e vedrete che sarà molto semplice rispondere alla seconda questo me lo deve dire lei sì mercoledì se me lo ricordo lo chiedo a lei ci vediamo mercoledì grazie a tutti